Onorevole Massimo Bitonci, per contrastare l'immigrazione che cosa ha deciso il Viminale? Diciamo che il Ministro Maroni non ci delude mai e quindi adesso ha già pensato a un decreto per risolvere questo problema dei rimpatri contro le sentenze che ci sono state. E' una soluzione che i nostri militanti aspettano da tempo, ma non solo, tutti quanti i cittadini e questa è l'unica strada che bisogna perseguire. Mano a mano che arriva nel nostro territorio bisogna subito temperare con i rimpatri e devono essere fatti con velocità e immediatezza. Può farci un esempio di quello che sta pensando il Ministro Maroni per quanto riguarda questo decreto? Lo vuole inserire all'interno di una modifica apposito a un decreto che andrà a modificare anche le norme sulla Polizia. Quindi un decreto importante che andrà a introdurre anche novità anche per la Polizia locale. Sappiamo quanto il nostro movimento abbia lottato e lavorato con decreti, ma non solo, anche con proposte di legge sul potenziamento del ruolo non solo dei sindaci, ma anche della Polizia locale, che noi pensiamo che sia il braccio del sindaco nel territorio. E' una mossa che risponde alle decisioni dell'Europa in merito al reato di clandestinità che ha bocciato. Lei che cosa ne pensa di questa decisione dell'Unione Europea? Questa è una decisione incredibile perché il reato di migrazione clandestina non c'è solo in Italia, ma c'è in molti altri paesi europei. Io faccio spesso l'esempio del Vaticano, come i nostri ascoltatori sanno, il Vaticano ha il reato di migrazione clandestina. Abbiamo visto nelle scorse settimane come l'hanno fatto anche velocemente ottemperare con i nomadi che si erano accampati all'interno delle sale vaticane. Grazie a tutti.